Ciao, sono Fabio e sto parlando da solo per strada. Volevo raccontarti che nel primo numero di Flyzone parlerò del progetto Lunga Vita a Dalmine. Che cos'è? Per scoprirlo, viene a ritirarlo al nostro gazebo. Ragazzi, come dovrebbe essere la vostra città ideale? Se siete curiosi di sapere come la pensiamo noi, allora leggete l'articolo che ho scritto sul nuovo giornale di nostra Dalmine, Flyzone. Mi raccomando, non perdetevelo! Ciao, sono Mattia. Sul primo numero di Flyzone, il nostro nuovo giornalino che consegneremo sabato in Largo Europa e domenica all'antenna durante i nostri gazebo, troverete un mio articolo sul progetto città universitaria, in cui vi parlerò del Parco Camuzzi. Sto a partecipare a un concorso artistico per realizzare degli stencil in giro per Dalmine. Allora, leggi il prossimo numero di Flyzone del giornalino di nostra Dalmine. Ah, io sono Anna! Ciao a tutti, io sono Roberto, sabato e domenica al nostro gazebo distribuiamo Flyzone, il nostro giornalino, la prima edizione, e io parlerò di una cava che stanno riempiendo a Mariano. Ciao! 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 Grazie a tutti.